Gruppo Giordano ha sviluppato degli accennitori elettronici a scintilla per lavori bruciatori alimentati a combustibile gassoso sia di tipo premiscelato che atmosferico. Gli accennitori della famiglia LB sono disponibili con diverse frequenze ed energie di scarica, giusto per incontrare le specifiche esigenze di ogni applicazione. Possono essere forniti con una singola connessione quando lo stesso elettrodo di accensione viene usato anche per la rilevazione della tram oppure con doppia connessione per realizzare un doppio elettrodo di scarica. Le dimensioni particolarmente compatte rendono l'accenditore LB particolarmente robusto ed è facile installazione.